Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Per lavori chiuso il tratto tra Aglio e il Bivio per la variante di Valico in entrambe le direzioni ai mezzi superiori a 7,5 tonnellate e per lavori chiuso anche il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e tra Pian del Boglio e Aglio in direzione Roma. In direzione Bologna chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla FIPILI per lavori e rallentamenti tra Ginestra, Fiorentina e Lastra segna in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Uoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!